ariete in una giornata di scarsa qualità emotiva che vi inclina al malumore è meglio dedicarsi a questioni poco importanti a risollevare il morale con attività capaci di scaricare le tensioni il momento abbassa energie e vitalità ma qualcosa sta per cambiare toro periodo gratificante nel quale siete pervasi da un buon equilibrio psicofisico da una buona energia che vi vuole attivi e propositivi rendendovi protagonisti delle vostre scelte in amore siete molto favoriti le relazioni si fanno intense e chi è solo può avere incontri fatali gemelli frenati nelle vostre iniziative e prigionieri di una visione poco ottimista delle cose probabilmente non riuscite a valutare correttamente le occasioni che si presentano l'amore al momento è in effetti contrastato ma oggi la luna infonde gioia e espansione cancro dovete combattere con alcune dissonanze astrali che vi rendono un po' demotivati e fiacchi ma avete dalla vostra parte venere e marte che pongono l'accento sui sentimenti esaltano la vostra natura romantica con un tocco di passionalità che non guasta leone giornata a solare proficua le percezioni emotive sono positive ed amplificate siete buona armonia con voi stessi e riuscite a dare un impulso notevole anche alle questioni di lavoro e personali ottimizzate le situazioni che richiedono un assestamento il momento è adatto vergine lasciatevi andare di più siete troppo trattenuti da tensioni o ragionamenti che vi creano una situazione interiore di malessere la quale determina poi rapporti di scarsa qualità e soluzioni lontane usate la vostra capacità analitica non solo per distruggere ma anche per costruire bilancia la luna nel segno oggi accompagna giove e appaga le vostre sensazioni colmando lacune sentimentali o visioni distorte della realtà l'ottimismo è l'ingrediente essenziale per ottenere successo e a voi non mancano né occasioni né capacità scorpione il fervore che vi pervade è causato dai favori di un cielo astrale che vi vuole in grande spolvero per le faccende di cuore ma anima anche la passione che infondete nelle vostre attività nei progetti che andate elaborando e negli incontri che produrranno vantaggi sagittario la luna armonica oggi amplifica le emozioni positive e vi inclina a ridimensionare le varie problematiche del momento con una migliore performance in ambito lavorativo sociale manca all'appello l'amore che adesso viene messo in discussione capricorno nonostante la luna nemica che disturba le percezioni ma non più di tanto siete oggetto di una fase astrale propizia che offre possibilità di conferme nel settore lavorativo nelle vostre attività grande conforto anche dal lato sentimentale vissuto intensamente acquario la giornata ha connotati di armonia emotiva di slanci affettivi e una buona predisposizione a ricercare qualche piacere in più per appagare un piccolo desiderio porti di un quadro astrale in crescente favore guardatevi bene intorno e scoprirete orizzonti inusuali pesci in questo momento siete particolarmente concentrati sulla voglia di amare sui rapporti con le persone care sul rafforzamento di relazioni importanti chi è single ha buone opportunità di imbattersi in qualcuno di speciale che farà esplodere una scintilla buone stelle